Il sindacato pensionati italiani e l'intera Liga Territoriale della CGL terranno una manifestazione commemorativa per ricordare il dirigente sindacale Umberto Domini, scomparso il 17 novembre 2018. Durante l'iniziativa, che si svolgerà venerdì 4 gennaio alle ore 16 presso la Camera del Lavoro in via Carmine Rossi, verrà ripercorsa la vita sindacale di Domini mediante la proiezione di fotografie e il ricordo di coloro che in momenti e da punti di vista diversi lo hanno affiancato in oltre mezzo secolo di battaglie per il progresso sociale dei lavoratori. La manifestazione verrà aperta e introdotta da Ornella Milano, segretario dello SPI CGL Agropoli e Cilento. Seguiranno gli interventi di Gerardo Barrella, segretario generale dello SPI CGL Salerno e Arturo Sessa, segretario generale CGL Salerno. Prenderanno poi la parola Sebastiano Aceto, consigliere comunale di Torchiara, Carmine Parisi, Nidil CGL, illegale Ingroia, Lino Picca, professore di filosofia, già segretario generale SPI CGL Salerno, Antonio Salzano, già segretario generale SPI CGL Salerno e SPI CGL Campania e Fausto Morrone, già segretario generale CGL Salerno. Gli iscritti alla CGL di Agropoli, sottolinea il segretario Ornella Milano, sono consapevoli della grande eredità politica lasciata da Umberto Domini ed è per questo che hanno deciso di partire proprio dalla memoria storica affinché i valori e gli ideali di cui egli è stato protagonista, chiosa alla Milano, restino vivi e guidino il lavoro politico e del sindacato anche nel futuro.